Seconda corsa, premio Bibabì, miglio per i tre anni, sono nove al via dopo il ritiro del numero sei, Wendmissi. E c'è il cambio di guida su Urania S, c'è Raffaele Palomba al posto di Alessandro Lezzo, con l'uno Udini Font, Pietro Gubellini, il due Raccoferme, Enrico Bellei, tre Ufoca, FKS, Mario Minopoli Jr., quattro Ultimatum, Roberto Vecchioni, cinque Urania S, Raffaele Palomba, sette Ruco Iana, Giampaolo Minucci, questi in prima fila, seconda fila, Hulk di Girifalco, Davide Di Stefano, Urawa G, Afri Shmidra, unica DBL, Giuseppe Pietro Maisto. L'errore di Ultimatum Moon e di Udini Font, l'errore anche per Urania US, e allora va facilmente a condurre dall'esterno Ruku Iana, che soffruiva di un numero più basso per il ritiro di Wendmissi, e ha sfruttato il suo scatto iniziale per essere leader su Urakoferme, Ufo KS in terza posizione, dalla seconda fila veloce Urawa G che segue in quarta, più indietro il gruppo, che è capeggiato da Hulk di Girifalco, davanti a Unica DBL. E gli altri? Muove dalla quarta posizione Urawa G, c'è l'anticipo di Ufo KS, resta in corda Urakoferme, ma Uruku Iana sembra intenzionata a correre al comando, sta imponendo buon ritmo e completa i 600 iniziali in 44 e 3. Uruku Iana leader Ufo KS che va deciso al suo esterno, poi Urakoferme, mentre sbaglia Urawa G. in curva qualche difficoltà anche per Ufo KS, mentre il mezzo miglio iniziale va avvia in 59 e mezzo, Uruku Iana pressata da Ufo KS e ora con l'arrivo della retta di fronte torna a premere con maggiore incisività sulla leader, Urakoferme spettatore molto interessato di quanto avviene fra i primi due, l'errore di Ufo KS esattamente al completamento di un primo giro da 1.14 scarso, cerca di riprendersi Ufo KS che però ha problemi di meccanica, sposta Urakoferme, lo anticipa, Uruku Iana, Urakoferme, Ufo KS ora sono a ventaglio, più indietro c'è unica di Bielle che affianca Hulk di girifalto, ripiega Ufo KS, mentre Urakoferme attacca a fondo Uruku Iana, tende a passare già al paletto dei 200 finali, Urakoferme allunga nei confronti di Uruku Iana, Ufo KS che cerca di riorganizzarsi, poi Hulk di girifalco, Urakoferme è passato su Uruku Iana, non riesce a staccare l'avversaria ma si mantiene comunque agevolmente in vantaggio, poi ancora Uruku Iana, vince facile, Urakoferme con Enrico Bellai su Uruku Iana, lungo la corda c'è lo sprint incisivo di Hulk di girifalco che batte Ufo KS, 2-7-8 dovrebbe essere l'arrivo ufficioso della seconda di Capannella, la vittoria di Urakoferme, 1-58-2 sul mio cronometro, 1-13-9 per il figlio di Ganymede con Enrico Bellai per il training di Gennaro Casillo, vincitore di questa seconda corsa nei confronti di Uruku Iana, veloce leader con Giampaolo Minucci, per il terzo spunta all'interno Hulk di girifalco, 2-7-8 l'arrivo ufficioso della seconda di Capannella. Grazie a tutti.